Buon carino, esprimete solidarietà Luigi? Certamente, sì. Il posto di lavoro qui vale un tesoro, visto che non ce ne sono, vero? Certo. Voi lavorate? Ogni tanto. A fatica, insomma, si riesce. Ogni giornata. Il Nero. È una famiglia, voi ce l'avete? Ancora no, ma è impossibile crearla con questa situazione. La Valle Peligna, come tutto il compensatore. Una vallata chiusa che non dà più opportunità di lavoro. Grazie. Prego. Anche voi esprimete solidarietà Luigi? Ovvio. Ovvio. Voi avete lavoro qui? Sì. Precario come tutti quanti. Per voi Luigi sta facendo una cosa buona? Sì, anzi, dovrebbe fare di più. Dovrebbe fare di più, ma sta pure digiunando, quindi penso che... Sì, ma se lo fa qua da solo così non risolve nulla. Vabbè, però se voi state insieme a lui, solidarietà, magari qualcun altro si sensibilizza. Grazie. Tu hai lavoro? Non ti riprendi il volto? Sì, sì. Hai lavoro? E Luigi secondo te fa una cosa giusta? Sì, perfetto. Combatte per il suo lavoro? Sì. Ma tu hai famiglia adesso? Sto cercando a fare. Da quando è che hai lavoro? Eh, sono... vabbè, sono tre anni. Tre anni, quindi che lavoro fai? Lavoro nella sperimentazione. Ah, stanco? Penso che sia già tutto detto. Stanco? Abbassando. Hai mangiato? No, no. Digiuni fino a quando? Fino a quando risolveva il problema. Forza Luigi! Forza Luigi! Non sei andato, Luigi! No, stalla, stalla! E lui, lui che usava? E noi andiamo a sinistro. Marco, apetiti, Marco! Apetiti. Eh, già la fatta. Già la fatta, Marco. Già la fatta. Eh, mi stai... Salute, salute! Eh già fatto, già fatto. Ma è sicuro? La tiglia? La tiglia? La tiglia? La tiglia? La tiglia? La tiglia? Eh, ci stava la tiglia e la tiglia. Ci stava la tiglia? Eh, insomma, è che ci sono perso questa vestiglia opera, era metrata. Ma va bene. Ma va bene. La tua perché non c'è? Da caffè non c'è una brandina? No, no, no. Non c'è brandina? No poi non c'èla poterla oddio. Non lo so, questo è un parpicciato. Come ti sei organizzato per la notte? C'è un saccappello, dopo un po' ci sta una pettoglietta, allora scorreremo il saccappello. A livello di bevande? Come è passata la giornata per persone oggi? È stata un po' pesantina, però è passata anche questa. Continuerai comunque tranquillamente? Sì, senza dubbi, fino a quando si trova una soluzione si va avanti. Hai ricevuto degli acquistati di solidarietà? Guarda, da tutti, anche da persone incospettabili che non c'entravano nulla, qualcosa di incredibile. La direzione è venuta un prego a salutare. A livello di amministrazione? L'amministrazione è venuta l'assistore urbanistica più di una volta, il sindaco ci sono sentiti anche telefonicamente, la compa esercenti è molto presente, insomma si sta guidando tutta questa operazione, anche altre associazioni. What's up? I amministrazione è venuta a fare una servizia. Non dov'è essere lo scura di amministrazione. Non dov'è essere lo scurdo di amministrazione. Non dov'è essere il vero scurato di amministrazione? Non è passou di amministrazione di amministrazione è liberame? Ci sono Andrini a traldare? Grazie.